E' bellissima, con queste ciabatte e questa borsa. Ah, ma sono tonto! Almeno fai finta di andare nella finizione. Ma almeno fai finta. Sì, ecco come si va in Alfiniti Roma. Andiamo a prenderci due pezzi di torta, ci riportiamo in Alfiniti Roma. No, mi sono messa la dentiera. Mi sono davvero fatta male. Dentiera, pannolini.